Ciao belli, eccomi, mi è arrivato il mio pacchetto di shane, lo apriamo insieme C'avevo un sonno assurdo, sono appena tornata dal lavoro Ma non ce l'ho fatta, devo proprio condividere con voi Ho quanti pacchetti dentro il pacchetto Ho comprato questo pettine e non riuscivo a capire se è per me o per Kali Sinceramente l'avevo comprato per me Ma sarà per Kali oppure per fare i massaggi corporali per la nostra cellulite Credo che sì, è più per fare i massaggi o per pettinare Kali Perché i denti sono troppo morbidi Troppo, 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 troppo morbidi Non sembra uguale alla descrizione comunque Io ho fatto una carta perché ho sbagliato e ho ordinato due volte E io faccio vedere prima questo Ho ordinato due volte questo L'ho visto quando ho fatto già l'ordine Voilà L'ho pagato 3 euro di qualcosa Ma mi è arrivato anche un altro Perché ho sbagliato io Non so se restituirlo, regalarlo a qualcuno Vi faccio vedere dopo quando lo farò vedere alla signorina Che lei adora queste cose La custodia, carina Carina, 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 carina La custodia Un prodore di plastica Così? No, così 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 che copre la Non è tanto scorrevole Che copre la telecamera Perché io faccio cadere troppo il telefono E soprattutto la cosa per mettere la scheda qua Perché c'è la tarjeta della palestra No? Carina Anche il colore non è male Andiamo avanti Ho preso top coat, pass coat e glow Per il brillo Questo sarà il matte o il primer E il primer perché mi sono finiti Io non so come cavolo ho fatto ad avere le unghie così resistenti Perché mi si è spezzato questo Comunque se vi interessa fatemi sapere Vi faccio vedere come faccio le unghie in casa Ho preso Ho preso anche i colori Sapendo che adesso arriva l'inverno E l'inverno mi piacciono i colori neutri Con tutti i colori neutri Tutte le tonalità del beige Solo che sono veramente molto 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 piccole Tutte le tonalità del beige dal più chiaro al più scuro Se non mi piace, mi piace tanto questo Comunque se vi interessa vi faccio un tutorial E se vi interessa dimmelo Ditemelo Ho preso questa qua Per lavare Nel lavasturino Per lavare la lavatrice Per i peli del gatto Comunque la proverò Non so come si mette La proverò E vi farò sapere se funziona Non funziona Vi farò la recensione Questo qua Anche questo per le unghie Questo glow che si mette Praticamente quando le unghie sono già fatte Si mette sopra per dare un tocco di glow Questi qua sono I gel Sono piccolissimi Lo pagate anche molto poco Uno chiaro Il gel che ho messo su Ti metto su Uno chiaro e uno bianco Poi questa qua Che come sapete la uso per polire casa Questa qua è Pettine magico L'unica cosa Si ossida tanto qua Diventa pieno di ruggine Poi ho preso Ah me l'ho regalato questo Così io non l'ho preso Ah no Così che l'ho preso Non l'ho regalato niente Allora Questo qua Invece è Per pulire Non so se riuscite a vederlo bene Contro luce Per pulire le orecchie Piuttosto di usare il coton fiocche Comunque inquinante Si usano queste cose qua Li proverò E vi farò sapere Ho preso questo qua Che praticamente Come si fa Ok Si mette dentro Aspetta Credo Era così Devo guardare come funziona Perché in teoria Si deve mettere dentro Il liquido qua E poi schiacci E fa uscire il liquido Aspetta Non voglio romperlo In teoria Si deve mettere il liquido dentro E si spinge Non so se si mette Di qua O Devo capire Da dove si mette il liquido Comunque I dentini che escono fuori E per ultimo Anche questo Ho sbagliato Io pensavo che Arriva Imparare a leggere Sarebbe bene Tante volte sono talmente Che non vedo Che aiuta Perché io voglio Imparare a A salire con la barra Con le spalle In teoria questa qua Dovrebbe Dovrebbe aiutare Nella spinta Non so Quanto può essere resistente Per la spinta Per la spinta Di tirarmi su Di tirarmi su Per Non so Lo proverò Lo proverò in palestra Anche questo vi faccio vedere Faccio sapere Se davvero funziona Questo ci ha scritto Questo ci ha scritto qualcosa Da qualche parte Sono 15 lb Mi informerò Meglio Pensavo che arrivava il set Completo Invece è arrivato Solo questa Adesso E' facile Vedere il premio Come lo facciamo Per care Non guardate sotto Perché questi qua Sono cosette Di tali Adesso Premi Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Questo qua Lo facciamo tipo così Uno qui Vediamo la mia bamba intelligente Cali Cali Vieni a me Vediamo Vediamo Guarda che è riuscita Che brava lei Sono più belli Se vi piace questo video Mi raccomando Lasciatevi un like Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Così vi arriva Tutte le novità E soprattutto Riesco a monetizzare Il canale Così compro I bei croccanti Nella bimba Anzi Io li cucino Quindi Bella carne Per la mia bimba Ti piace Piccola O non ti piace I premi Guarda Cerca 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 Tutto con il nasino Tutto con il nasino Tutto con il nasino Con la lingua Ti piace Mami Io ho anche un'altra Che quella In due secondi La smonta tutta Un bacione da me Da Cali Il gatto Con la bottiglia Perché Le metto Le bottiglie Prima di andare A lavorare Le faccio Il buchino Ci metto Dentro i premi E lascio Così il gioca La rompe E riesce A tirar fuori i premi Guarda Questa qua Non è riuscita Perché la piegata Di qua Non riusciva Più a A prendere i premi Che brava La mia bimba Il gatto Sei un spettatore Ciao belli Alla prossima